Allora, prima domanda ai sindaci, che effetto fa per i sindaci vedere i loro colleghi con la fascia tricolore nella centrale del Mercure e anche evidenziare con una certa vehemenza le loro ragioni? E quale sindaci ci sono? Tre o quattro sindaci. Gli altri ufficiati sono tre o due sindaci. Quell'altro hanno detto di no, due si sono astenuti e uno solo era favorevole, altri non ne conosco. Ufficialmente. Capo, qualcuno mi dice, tu hai a chiedere da una qualche cosa, cambia, non possono nemmeno cambiare. Per questo tipo quanto sembra, perché è stato spiegato prelegalmente, si vanno a cambiare. Le rispondono anche penalmente, quindi non possono cambiare, perché hanno già prodotto effetti, diciamo, le decisioni prese. Posso dire una cosa? Qua c'è un ragazzo, facciamo rispondere prima al sindaco, perché volevo aggiungere qualcosa. Allora, io in parte ho già risposto e sicuramente mi ha fatto un brutto effetto, perché sono del parere che a giorno d'oggi l'industrializzazione non può unire, non unisce e non può unire, soprattutto in un parco. Quindi questo è l'effetto che mi ha fatto, il fatto di vedere tringerati, diciamo, dei colleghi, in una cosa che è già superata dalla storia e dalle politiche che abbiamo messo in campo in questi anni, mi fa un brutto effetto. A loro lancio un ennesimo appello. Loro avevano fatto un appello nei vostri confronti, lo rigettate ovviamente. Lo rigettiamo perché abbiamo già espresso attraverso gli atti, lo diceva bene il sindaco di Rotonda. Ci sono 28 sindaci che si sono già espressi su questa materia e quindi lo rigettiamo perché, anzi, mettiamo sullo stesso piatto altre opportunità, altre cose, altri indirizzi di natura politica che possiamo, anzi, concertare insieme e che in parte lo stiamo già facendo, anche faticosamente, perché il fatto che noi siamo divisi su questa materia non ci fa guardare lontano, no? E quindi probabilmente recuperare un po' di, come dire, di concertazione, di logiche, di comunità che lavorano insieme attorno a questioni veramente importanti che noi stiamo portando avanti sarebbe, diciamo, l'ideale in questa fase. Posso dare una risposta anch'io su questa cosa? Io penso che si sono messi la fascia per rimarcare il loro ruolo, ma non rappresentano nessuno, perché all'Enel c'erano loro e la fascia. I nostri sindaci non hanno bisogno di indossare la fascia perché rappresentano i cittadini. Questo è il fatto. Io voglio chiedere ai cittadini di Lauria e degli altri comuni se sono a conoscenza degli affari che vanno a fare questi sindaci sulle nostre teste e anche sulle teste della gente di Lauria e degli altri comuni rappresentano loro stessi e si devono portare la fascia per dimostrare che sono sindaci. Qui non ci sono contraddizioni tra i cittadini perché io non ho visto mai cittadini di Castelluccio, di Lauria, di quell'altro paese che non so nemmeno nominare. Mormanno sta venendo qui al presidio a dire che porta solidarietà ai cittadini. E allora di che cosa parliamo? Di sette individui loschi che fanno affari sulla nostra pelle. Questo è il pensiero della Valle del Mercure e i nostri sindaci non hanno bisogno di far vedere il ruolo perché tutti i giorni si investono nel proprio ruolo stando in mezzo alla propria gente e difendendo i nostri diritti. Alcuni sindaci che sono subentrati dopo perché io naturalmente interloquisco con queste persone non sono nemmeno a conoscenza nel dettaglio della vicenda giudiziaria che è in corso. tant'è che alcuni pensano, ma questo glielo puoi chiedere solo perché non ci può essere smentita su questo, alcuni pensano che noi abbiamo già sanato l'aspetto giudiziario che non lo conoscono evidentemente e quindi dobbiamo trovare una sintesi superati queste questioni. Ecco perché la vedo un po' dura sul fatto che si conosca a fondo la faccenda e probabilmente ci si inserisca solo per un dato di fatto contingente, cioè perché è l'Enel che vuole creare questa rete come dicevo prima e appunto a fronte del fatto che non si è imporso di quello che accade e forse non hanno nemmeno condezza delle preoccupazioni che ci sono nella Valle. Non a caso alcuni sono lontani e probabilmente a loro non giunge nemmeno l'eco. Si mettono la fascia probabilmente perché... Il dato giuridico è insanabile perché ci sono i sindaci che non faranno, di Vigianello e Rotonda che non faranno mai un passo in piedi, ma c'è anche un altro, dico proprio come promotori del proprio dimesso, ma ci sono anche, questo ha un significato, c'è un altro filone, c'è un'altra causa, c'è un altro giudizio sostenuto dalle associazioni ambientaliste, quindi c'è la popolazione che quindi è rappresentata dai sindaci che si unisce alle associazioni che difendono il territorio e mi permetto di sottolineare che i sindaci cosichetti a favore io trovo irragionevole e censurabili che si siano riuniti all'interno della centrale del Mercure rinunciando a un ruolo proprio istituzionale, proprio dandosi come immagine in pasto a questa multinazionale, mentre i sindaci che rappresentano la gente sono a casa loro nell'ente che governa questo territorio. Un sindaco non c'è andato perché non c'è andato, quel sindaco di Laeno Castello che prima ha detto no alla centrale, poi ha detto sì nuovamente alla centrale, a quella conferenza stampa non c'è andato perché forse la coscienza gli rimorde, per quanto riguarda il sindaco di Laeno Borgo, forse non ce l'ha la coscienza, è probabile, vedremo cosa farà nei prossimi giorni e il sindaco di Laeno Borgo sapete quello che ha fatto, quindi non c'è bisogno che di già morta. Il sindaco di Castelluccio Superiore aveva espresso netta contrarietà alla centrale, come mai ha cambiato opinione andando all'Ener, hanno dato i soldi, i soldi, i soldi. Ma lei mi tiene corretto che il sindaco di Laurina, che non c'entra nulla con la Valle del Mercure, debba essere invitato, lui come altri sindaci, soltanto per poter far numero e dire abbiamo dei sindaci dalla nostra parte, sindaci che non hanno nessun interesse titolo giuridico oltretutto per partecipare a questi tavoli di milione, posto che infatti in questi dieci anni il comune di Laurina, come altri comuni che hanno partecipato a questo tavolo, non sono stati mai invitati da nessuno, per la semplice ragione che non hanno un collegamento con la centrale. Le sembra moralmente accettabile che questi sindaci, mossi soltanto dalla possibilità di avere dei soldi per i loro bilanci dissestati, possano fare interessi di questo genere, sulla pelle di questa gente, le sembra corretto che Rotondo e Bigianello devono prendersi gli effetti negativi della centrale, le sembra moralmente possibile che quando si parla di compensazioni ambientali non si parla di misure per ridurre gli effetti negativi della centrale, non si parla di utilizzare le risorse per ridurre l'inquinamento per esempio, per migliorare la viabilità, per sornare interventi sul settore occupazionale, no, si danno soldi ai sindaci e i sindaci ne fanno quello che vogliono e sappiamo come vengono amministrati alcuni comuni, per cui potranno fare con i soldi quello che ritengono, coprire il disavanzo di gestione di senate come fare l'assunzione clientelare. Questa è compensazione ambientale, nel silenzio delle istituzioni, perché queste trattative lo diceva prima il mio sindaco, avvengono ed è oltre che giuridicamente e moralmente inaccettabile, a titolo individuale, sembra di essere al mercato delle vacche, per cui ogni sindaco riesce ad ottenere eventualmente qualcosa in più dell'altro a seconda della propria capacità. Questo è un modo per acquisirne i consensi e metterne a tacere le coscienze. In questo modo i sindaci rinunciano a discutere del problema centrale, fanno in un qualche modo gli interessi e male dei loro comuni, che non hanno collegamento col territorio, sulla pelle dei nostri comuni. È la ragione per la quale io da cittadino ho detto più volte ai miei sindaci che io al loro posto non prenderei più neanche un caffè con questi signori, romperei ogni rapporto istituzionale perché è il meno, è il meno, perché non si può fare una cosa del genere. E la politica che dovrebbe rappresentare tutti i comuni sta zitta nella migliore delle cose. Tra l'altro mi scrivo, in questo tavolo chi ha deciso chi doveva essere invitato? Questi comuni che sono spuntati oggi per la prima volta, mai inseriti in un elenco precedente perché non hanno collegamenti col territorio, chi ha deciso chi invitare? Chi ha stabilito per esempio che debba esserci il sindaco di Lauria a questo tavolo e non il sindaco di Sansevrino e Lucano. Io voglio vedere se dal parco effettivamente prendono iniziative per uscirse di Gianello, Rotonda, Sansevrino e Terranova che già hanno espresso questa eventualità, voglio vedere il parco con chi se lo fanno, se lo vanno a fare con l'Enel e con qualcun altro che appoggia questa iniziativa. Poi perché questa riunione al Ministero dello Sviluppo Economico? Ma perché è solo un problema di lavoro? È il Ministero dell'Agricoltura, è il Ministero del Turismo, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute, dove sono? Quindi come vede, ecco perché c'è tanta indignazione, c'è tanta rabbia dopo anni di lotta, perché ci rendiamo conto che stiamo lottando con le nostre forze contro poteri forti che hanno la possibilità di dire quello che vogliono e noi non abbiamo tale risalto. Le siamo grati a lei e ai suoi colleghi e speriamo che possa esserci quella unificazione delle nostre santa e ragione. Per i sindaci che forse dimenticano il loro ruolo importante, loro sono i primi responsabili della salute pubblica, perché non possono venire meno a questo ruolo in cambio di qualsiasi altra compensazione, anche perché abbiamo capito che una classe politica che vive di compensazione è una classe politica morta, non ha futuro per lo sviluppo del territorio, per cui il fatto che diceva di perseguire, distrarre i fondi, no, il sindaco se firma e non tiene conto della salute pubblica, è lui che è perseguibile nei confronti della popolazione, sia da un punto di vista penale per il discorso salute, ma anche per un punto di vista economico, perché gli operatori economici della zona possono fare un'acqua section contro l'amministrazione comunale, e io non lo so, non lo vedo questo sindaco che si va a mettere nel recinto del lento, così di punti fianchi senza valutare le situazioni, perché non sa cosa va incontro. Volevo solo ricordare alla platea che stiamo continuando la raccolta firme per le dimissioni del Presidente Pappaterra e voglio dire una cosa di cui mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Io sono allarmata dalle dichiarazioni fatte dal parroco Don Maurizio che capeggia la battaglia di Caivano per intenderci e che dice alla Basilicata, alla Calabria, alla Puglia e al Molise di tenere gli occhi aperti perché siccome le terre del fuoco sono sature non possono più imboscare nulla, non possono bruciare perché in questo momento i riflettori sono accesi sulla campagna, questi andranno a bruciare in Lucania e allora la mia preoccupazione è quella che questi signori capeggiano questo tavolo allo sviluppo economico, si siano venduti il territorio, questo è il dato perché noi prima del 2005 dicevamo che questo era un mega ingeneritore e ci prendevano a pesci in faccia, questo era un ingeneritore ed io oggi ho paura che questo non sia più nemmeno un mega ingeneritore, ma un traffico di rifiuti tossici e pericolosi che ci ammazzeranno nell'arco di qualche anno, quindi non facciamo la fine che verranno qui a contare i morti, ma faremo morire loro prima, facciamo morire loro prima, salviamoci e crediamo in queste cose perché non può essere solo che devono fare un piacere all'Enel queste persone, queste persone secondo me devono fare altri tipi di piaceri. Volevo al Dottor Laghi ma anche agli altri una questione centrale dell'amianto perché proprio in questa conferenza stampa fu chiesi questa questione e notai una certa vehemenza nella risposta perché fu detto che assolutamente questo problema non c'era ed anzi dalla mattina successiva chiunque sarebbe andato all'interno della centrale dicendo insomma sta qui o sta qui o sta più avanti o più indietro, si sarebbero immediatamente fatti tutta una serie di rivellazioni e quanta per capire se c'era questo amianto. Tra l'altro veniva evidenziato anche il fatto che vi erano stati fatti dei carotaggi in modo tecnico particolare per vedere se c'è. Come si risponde a questa... Sì, come al solito qui parliamo di autoreferenzialità dell'Enel nel senso che ci sono due cose, uno quando questa storia iniziò ed ebbe un'acqua intorno al 2005 ci furono cinque sequestri da parte del Tribunale di Castrovillari sul terreno dell'Enel, diciamo proprio della centrale e in uno di questi si fecero dei carotaggi e furono trovate delle sostanze cancerogene certe seppellite all'interno del recinto dell'Enel anziché essere state normalmente smaltite, tanto che la magistratura impose una caratterizzazione. I carotaggi di cui parla Enel, che sono altro rispetto all'amianto, non è stata una sua iniziativa, è stata una imposizione della magistratura dopo che furono trovate queste sostanze occultate dolosamente in quanto sepolte nel terreno all'interno della centrale, a cui doveva seguire bonifica, di cui personalmente, forse per carenza di informazioni, non ho assolutamente notizie, quindi prima domanda, quelle sostanze cancerogene certe trovate seppellite all'interno del recinto della centrale, dove sono state bonificate? Uno, questo è un discorso a parte, noi vogliamo sapere e i parlamentari della Repubblica italiana, lo vogliono sapere e finora non hanno avuto risposta formale ufficiale, si immagina che uno va là e dice scusate, dov'è l'amianto? Scavate qua, è ridicolo solo come idea, se c'è una cosa in Italia che tu puoi tracciare secondo per secondo e grammo per grammo è l'amianto, sfortunatamente ancora una volta dopo che si sono contate migliaia di morti che riguardano proprio questo problema e dopo che le associazioni di cittadini affetti amianto sono dovuti costituire e organizzare su tutto il territorio nazionale, noi non vogliamo andare lì e dire qui così e lì, noi vogliamo avere da parte di Enel un documento ufficiale che spieghi, che faccia tutto l'iter dello smaltimento, loro hanno assicurato che l'amianto presente nel gruppo 2 della centrale, cioè quello da riconvertire è stato bonificato, allora noi vogliamo sapere quanto ce n'era, come è stato bonificato, dove è stato portato, perché l'amianto è tracciabile in ogni momento, 1, 2, loro hanno detto che per motivi economici non avrebbero bonificato, quindi io parlo con le parole dell'Ener, non avrebbero bonificato il gruppo 1 perché gli veniva troppo costoso, cioè e loro tra l'altro pretendono di aver speso qualcosa, anche qui la cifra è lievitata nel tempo, 40, 70, adesso siamo a 90 milioni di Euro per rimettere in funzione quella centrale, mangiata dalla ruggine che si tenta a credere che ci abbiano speso 1 Euro, loro dicono in questi 90 milioni di Euro non hanno trovato i fondi per bonificare il gruppo 1, per motivi economici lo hanno dichiarato e lo hanno messo in sicurezza, messo in sicurezza significa che praticamente le microfibrile dell'amianto non possono andare in atmosfera e quindi non possono colpire le persone col messo tediovo. Dopo 10 anni, parliamo di 10 anni fa perché il progetto è del 2000, allora adesso che siamo nel 2013 l'altra domanda sempre sull'amianto, com'è lo stato dell'amianto messo in sicurezza? E' stato messo adeguatamente in sicurezza? E' ancora in sicurezza? Questo perché per i sindacati, la CGL che si batte per la salute dei lavoratori, che non apre bocca su questo, è vergognoso, i sindaci che vanno a respirare l'aria della centrale e che come ha detto giustamente, sono i primi tutori della salute pubblica, perché non si sostituiscono a noi, dire benissimo, noi siamo per la centrale, però ce la date la garanzia, non la garanzia autoreferenziale, ci fate vedere le carte, ci dite dove è stato l'amianto, quanto ce n'era e dove era e visto che è riportato nella interrogazione, queste voci che dicono che la parte dell'amianto non è stato bonificato ma solo incamiciato, bonificato ha un solo significato, preso e portato in discariche speciali, altro non può significare, rispetto a queste domande noi non abbiamo risposta, i parlamentari del Parlamento italiano, rappresentanti del popolo al più alto livello non hanno ancora avuto risposta, a questo dovrò rispondere l'Enel e i suoi amici. ...dovrebbe essere recintato e hanno fatto una conferenza ai servizi con il sindaco di Laino Borgo e l'Enel e non è stato mai bonificato quell'amianto, perché deve rimanere lì in quella situazione che è sulla scarpata che dà sul fiume, sul fiume? ...se c'è, voglio dire, è assolutamente illegale, è illegale, è un reato, è un reato... ...queste sono fonti dell'ASP, sono fonti ASP, queste cose che ho detto sono fonti dell'ASP. ...danno la parola... ...il dato, al di là dell'amianto, perché sennò sembra che la questione si riduca al discorso amianto è che in generale, in materia di protezione ambientale, anche oggi, non vengono garantite le condizioni dalle stesse restrizioni dell'autorizzazione, noi oggi, l'ha detto prima di me il sindaco di Rotomio, le ceneri, non sappiamo come vengono smaltite le ceneri e parliamo di un quantitativo enorme, secondo i dati progettuali forniti da Enel, e abbiamo visto che sui dati progettuali forniti da Enel io non scommetterei nulla, vista l'approssimazione, uso un eufemismo, con cui sono stati forniti, ma parlano comunque di 2750 tonnellate all'anno, cioè un quantitativo enorme. Avremmo diritto di sapere queste ceneri come, dove e quando vengono smaltite? Avremmo diritto che perlomeno l'inquinamento venga registrato? Si può sapere qual era il livello di inquinamento quando la centrale è entrata in esercizio e fa le occhi? Le centraline che sono previste dalla prescrizione unica, perché non sono state ancora attivate in collegamento terrenatico con i comuni e con l'APA? Perché l'APA ci interviene solo dopo le nostre denunce, che in precedenza fa finta di nulla. E là dovrebbe invece preoccuparsi di verificare il rispetto di queste prescrizioni. Questi sono i punti. Anche se su questo avvocato chiedo scusa se la interrompo le due, Enel sostiene che costantemente, anche perché obbligata dalla legge, costantemente invia i dati dell'inquinamento e quantità. non ho bisogno di rispondere. Può leggere da sé quello che scrive l'APA? Non le rispondono. Questa è una nota dell'APA, 8 novembre 2013, l'APA Basilicata, protocollo 009885, in cui l'APA dice, testualmente, indica tutta una serie di punti, installazione presso ogni cabina di un computer industriale, utilizzo della connessione Enel, interfacciamento, sperimentazione della soluzione, eccetera, e dice, emerge a tutt'oggi un'inambienza dei punti sopra riportati. Si sottolinea eccetera e per questo motivo li ha convocati per il 19 novembre. Solo grazie e a seguito delle nostre lamentazioni. L'Enel ha una voce più forte della nostra, ma certamente meno veritiera della nostra. bilateralità della questione perché sul cippato, sulle biomasse, vi sono le immagini, vi è la persona con tanto di guanti e di buste e di sacchetti di plastica che man mano che i camion vanno a scaricare prendono, non so, 500 grammi, 300 grammi di questi pezzettini di legno poi nella buona sostanza e questi pezzettini di legno vengono messi poi in queste buste portate ad analizzare, non so dove, il problema è che non vi è una controparte in questa analisi. Mi scusi, che questo avvenga, noi non lo sappiamo. No, 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 questo è... Io personalmente... No, no, questo c'è, questo è registrato, questa... Chi l'ha registrato? Io, io, io. Certamente sarà venuto in sua presenza. Lei non credo che per notte... Quindi è stata una messa in scena, dice lei. Io non ho detto che è una messa in scena, io dico che mi sembra molto facile per vedere che tutto funziona nel giorno in cui c'è stata, che ci sono, probabilmente lo stesso giorno dei sindaci che tra l'altro aggiungono una sudditanza psicologica proprio nei confronti dell'Enel, è imparazzante, è imparazzante, è imparazzante, un sindaco dovrebbe avere dignità del suo ruolo, è un sindaco che abbia, un attimo solo, scusami, un sindaco che ha dignità del suo ruolo, l'Enel la riceve casomai al comune o in sede istituzionale, non va il sindaco, nella sede dell'Enel perché dimostra veramente una vicinanza all'Enel che è imparazzante. Scusate, un dato, perché Enzo ha citato 2.700 tonnellate, le ceneri da legno sono intorno al 4-5% della quantità iniziale, dato che, dato Enel, parliamo di 360.000 tonnellate l'anno, il 4-5% del 360.000 sono 600, ma usiamo dati Enel per dire come non sono capaci oppure dolosamente cambiano i dati, le ceneri del legno sono dal 4 al 5%, quindi significa il 4-5% di 360.000 varia da 17.400 a 18.000 tonnellate, diciamo, l'anno. Quindi questo 2.700 tonnellate sono 9 volte, 8 volte in meno di quello che in realtà se ne produrrebbe. Già non ne sappiamo un decimo di questo. E non in volume, cioè in peso. Quindi in volume la ceneri della ceneri. Non sono 2.700 tonnellate. Non sappiamo comunque nulla neanche di questo problema. Vorrei rispondere al massimo all'interno dell'infinamento, cioè anche le centraline servono soltanto per misurare la qualità dell'aria. I parametri che loro danno poi non sono singoli componenti, ma sono per classi. Quindi già questo, non abbiamo un dato che è accumulato e non è un dato per singoli elementi. Poi ci sono altri aspetti dell'infinamento che non riguardano soltanto la qualità dell'aria, ma che riguardano anche il rumore e gli odori, chiamiamoli così. Di questi non è previsto il monitoraggio, anzi era previsto, c'era una prescrizione dell'autorizzazione unica da parte dell'ASP che venissero prese tutte quante le precauzioni, le iniziative per poter ridurre il rumore e il cattivo odore. Questo non è stato fatto perché la perimetrazione del piazzale, come era, è rimasta. Poi sulla qualità dell'aria ci sarebbe qualcuno sicuramente più informato di me, c'è tutta quanta una procedura perché non è che la legge è uguale in tutte quante le regioni d'Italia, perché si parte da un punto zero che dipende. Quindi su questo aspetto, anche se l'Enel, nessuno mette in dubbio che l'Enel non faccia il monitoraggio, però noi vogliamo avere delle rassicurazioni su come viene fatto, perché poi in funzione del fatto che l'autorizzazione è per una centrale a biomassa, anche i parametri che vengono misurati si riferiscono a questo fatto. Quindi qualora, nessuno sta dicendo che venga fatto, qualora venga, diciamo, nessuno dice che è il brucino o altro, però qualora ci fosse anche questo pericolo, le diossine per esempio non vengono misurate perché non è previsto che una centrale a biomassa produca diossine, quindi noi siamo preoccupati, io parlo da libera cittadina e sono preoccupati. Scusate, questo è un dato semplico, allora, l'incenerimento del legno, dato che il legno vive nell'ambiente, provoca la liberazione di sostanze clorurate, cioè di atome di cloro, che combinandosi producono diossine. Quindi voglio dire, è una sciocchezza dire e quindi non monitorare che le centrali a biomasse non producano diossine, perché è scientificamente sbagliato l'incenerimento degli alberi, proprio perché assorbono quello che c'è fuori, producono ugualmente metalli pesanti e diossine, quindi producono magari meno dei rifiuti, però comunque producono anche questa volta, ripeto, sostanze carigerogene certe che per il problema dell'inversione termica sulla valle del Mercurio persistono lungamente all'interno della valle. Questo non è possibile discutere, nel senso che voglio dire, questi sono dati scientifici. Allora, io lo sto profondentino, però mi pare che tra gli elementi che vengono monitorati le diossine non ci sono, mentre ci sono degli idrocarburi, perché sappiamo tutti che la centrale non è solo a biomassa, ma fino a 7 metà funziona con olio combustibile, non è quello che è, e poi va, quindi monitorano gli idrocarburi, ma non le diossine. Secondo il questione mondiale della forza, ripeto, l'inquinamento aereo è cancerogeno, l'aspetto più pericoloso dell'inquinamento aereo sono le nanocorti, cioè il particolato fine-ultrafine, che ovviamente nel caso dell'incenerimento del legno è estremamente rappresentante, quindi quella centrale comunque è un pericolo per la salute, sia per quello che fa, sia per dove lo fa, per la gente che vive all'interno della valle del Mercurio. Infatti, se posso volare un po' più basso, registrando anche i tumori della popolazione, sono le dimensioni, le dimensioni dell'impianto e la conformazione geografica della valle, non a caso le popolazioni di Vigianello, di Pedali, in particolare Vigianello, Rotonda, che fanno praticamente da cornice, con il naso sopra il comignolo, sono preoccupati, proprio per l'impatto devastante che se lo porta dietro la dimensione dell'impianto, e per il fatto che comunque la ciminiere è al di sotto delle cornici delle case, senza poche. Questo è l'elemento che fa poi la cifra di tutto quanto il resto, e poi c'è anche il contesto tecnico che è stato usato nell'elemente di pattuglia. Ci sono degli organi pubblici che hanno il dovere di intervenire, perché questi signori non intervengono? Perché rispetto ad Enel va tutto bene se l'Enel stessa che controlla i dati li mette, li rende pubblici secondo quello che le stesse ritiene oppure i dati, ma anche se l'Enel dice che li manda questi benedetti dati. Ma non fa testo nel senso che... Allora dovrebbe intervenire al direttore che ha firmato questa nota, che ha scritto delle cose non vere, a parte che i dati dovrebbero mandarli anche ai comuni. Io vorrei farvi permettere, la strategia da oggi pomeriggio in avanti, nel senso che cosa si prospetta nel vostro impegno sia politico, istituzionale, sia associativo e tecnico? Siamo tutti uno, qui si è creata una fusione eccezionale tra l'istituzione, la gente, è un unico corpo, ci muove insieme. Esatto, questo unico corpo cosa farà da oggi pomeriggio, tenendo conto ad esempio che c'è un nuovo governo regionale, tenendo conto che alcune cose stanno maturando in un certo modo e quindi probabilmente faranno anche evolvere la situazione nel corso delle prossime settimane. L'idea è quella di continuare il presidio, le forme che stabiliremo oggi stesso e con l'assemblea, con i comitati e poi naturalmente la cosa che ho detto prima, cioè di investire il Presidente della Regione... Mi chiederebbe un incontro ufficiale ai prossimi giorni, subito, dell'immediato. Continuiamo a sollecitare il Consiglio Direttivo e il Presidente a prendere contezza di quello che accade all'interno del parco e naturalmente questo presidio va avanti fino al 3 di dicembre per scongiurare che si tenga questo ennesimo tavolo di concertazione che noi naturalmente rigentiamo. Queste sono le forme. E poi c'è l'interrogazione parlamentare in corso, che tra l'altro è molto completa perché è una buona sintesi di tutto quello che è accaduto in questi dieci anni e soprattutto si concentra sugli aspetti più politici e contingenti che abbiamo rimarcato dal 3 di novembre ad oggi, investendo anche il Ministro del ruolo che sta tenendo il parco in queste due settimane. Non ha sviluppato un'industria agricola per quanto riguarda l'utilizzo? Avremmo dovuto fare un piano, le energie invece di portarla a Milano, che sa dove la utilizziamo su un posto e creiamo lavoro. Tecnicamente la Calabria, mentre parliamo, ha un appannaggio attivo di circa il complessivo 100 MW di centrali a biomasse che sono assolutamente in crisi, che non hanno sia in crisi occupazionale sia in crisi di reperimento di biomasse. Quindi in Calabria biomasse per la centrale del Mercure non ce ne sono. Già quelle che usano in Calabria vengono da fuori e tant'è che questo è un gravissimo pericolo, è un'azione di dissesto, di promozione del dissesto idrogeologico perché ripetutamente in Calabria arrestano persone che vanno a tagliare boschi protetti per bruciarli e in Calabria l'indebito arricchimento di queste cosche malavitose ha dato luogo a quella che viene definita ed è nota a livello nazionale come mafia dei boschi, cioè la mafia che si arricchisce tagliando i boschi in maniera illegittima perché non sanno dove prendere le biomasse e lasciando le popolazioni come al solito col dissesto idrogeologico, quindi con il fango, con le acque condizioni inceste. Quindi non dicessero sciocchezze, biomasse in Calabria per Ele non ce ne sono. E' vero che non ce ne è neanche in Basilicata perché la Basilicata forse dimentica che la nostra regione non ha nulla da invidiare alla regione Calabria quando ha disponibilità verso gli invianti di biomasse. Da ultimo ne hanno autorizzato proprio pochi giorni addietro uno ad Aliano, nel comune di Aliano, per la bellezza di altri 24.000 MW ed è stato ridotto 24.000 MW ed è stata ridotta la potenza originaria. Già solo quella centrale assorbirebbe tutta la disponibilità di biomasse della Basilicata. Quindi siccome non devono fare il gioco delle tre carte in combinazione, non c'è disponibilità di biomasse in Calabria e non ce ne è neanche di Basilicata. Anche se si pigliano poi gli stessi atti e si utilizzano a volte dicendo che quel terreno può coprire la centrale del Mercolo e a volte per coprirne altre. Non ce ne è disponibile di biomasse e poi, mi scusi, ma perché deve essere l'Ener a decidere la politica di un territorio? Poiché qui non abbiamo biomasse e loro decidono ugualmente di fare una centrale a biomasse di quella dimensione, dobbiamo sobbarcarci in tutti i problemi connessi. e se a noi non va bene tutto questo, se noi in assoluto vogliamo, si è fatto questo parco, noi vogliamo il parco. Probabilmente quelli che purtroppo lo rappresentano no, ma noi vogliamo il parco. E il parco, comune centrale, non ha nulla a che vedere. Noi vogliamo uno sviluppo diverso per questo territorio e quindi la politica deve capirlo e deve rivendicare questo ruolo perché è un'opportunità, altrimenti andremo avanti in questa battaglia, anche senza la politica e contro la politica se necessario. Io volevo fare solo una considerazione, oltre alla qualità dell'aria e l'impatto che possono avere i fumi, probabilmente non consideriamo, o meglio noi lo consideriamo, ma è grave che non lo considererebbe in gestione del parco nazionale del Pollino, che rinviando a biomasse essenzialmente a una linea produttiva che è finalizzata a due produzioni, una che è quella del calore e l'altra è quella dell'elettricità. Ovviamente il business è sull'elettricità e ci si sofferma tutti sull'elettricità, ma un impianto che non utilizza minimamente, perché non è stato proprio concepito per valorizzare... No, è stato proprio concepito, scusa se ti interrompo. Scusa solo, sì, non è stato concepito per come è localizzato, per come è stato riattivato, per una valorizzazione del vapore anche nei confronti delle comunità locali, dissipa completamente un quantitativo enorme di vapore, a prescindere dalla qualità di ciò che si va a bruciare e quindi dei fumi e di tutti i monitoraggi opportuni e necessari. C'è una quantità incredibile di vapore che viene immessa in atmosfera e che non può non incidere sul clima, soprattutto in un contesto territoriale come il nostro. Il secondo elemento che mi permetterei di osservare, al di là del giusto rischio sui difiuti, nel momento in cui le biomasse provengono da territori diversi e distanti dai nostri, tutte le giuste valutazioni anche che faceva il vice sindaco in termini di anti-economicità dell'impianto che è dopato da politiche incentivanti che nel momento in cui l'istrumento ci consegnerebbe un rotame che non sarebbe più appetibile a chi che sia. Il tema è anche un altro, la combustione può immettere degli agenti patogeni e purtroppo c'è letteratura anche non soltanto nei confronti della salute umana ma anche nei confronti dell'ambiente, quindi delle specie che vegetano in questo territorio perché sarebbe combustione di biomasse di essenze che vengono da contesti diversi, quindi probabilmente caratterizzate anche da fattori patogeni diversi. Ci potremmo trovare con problemi seri anche per quelle che sono le nostre realtà ambientali che amiamo e che vorremmo tutelare. È strano che questo tipo di considerazioni debbano venire da noi e non da chi è preposto, non da chi è preposto a fare le riunioni con le biodiversità. C'è una cosa da chiarire su questo argomento, il calore volevano portarlo a rotonda, fare un impianto di teleriscaldamento. E questa è la volta, io ho detto che preferisco il freddo in un'ultima domanda, andiamo a fare un po' inizia del Раз. Andiamo a dire! Un'altra domanda, andiamo a fare un piccolo regolino pubblico, anche se non ha più Non lo sia presto! Non lo sia presto! Molto prezzo! Grazie per la propria apposta! Grazie! Grazie! Applausi! Grazie! Anna! Applausi! Grazie!